Finita fuoristrada, alle 5 di questa mattina, domenica 23 febbraio, è l'alfamito su cui viaggiavano due ragazzi. E' successo sulla A5, al 6 chilometri della Torino a Osta in direzione del capoluogo piemontese. I giovani, una ragazza del 1997 di Pianezza e un ragazzo del 1998 di Nole, tornavano dai festeggiamenti del Carnevale di Ivrea. Nel territorio del comune di Leni, tra gli svincoli di Volpiano e Settimo, l'auto, per cause ancora da accertare, è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata. I due giovani sono stati soccorsi e trasportati al Giovanni Bosco di Torino.